Raffa, aspetta un attimo che non riesco ad aprire la porta. Ah no, aspetta, forse ci sono. Come stiamo andando? Forse a Napoli stiamo andando. Forse il raduno della nazionale maggiore, non lo so. Stiamo andando a vederlo, penso. Come vederlo? Si chiamano? Sono veramente contento che sia arrivata questa chiamata. Mi sono tolto un peso, finalmente. Ho detto, ancora guarda, non ci credo perché è un sogno, sto sognando, non è vero. Sì, non so cosa mi aspetta, quindi c'è un mix di emozioni dentro. È bello, eh. Riesco a prendermi il numero zero, cazzo. Ma non c'è ancora il numero? Il numero non lo so. Hai visto il numero zero? Molina. Il mio fratello giocava a basket, mia mamma ha giocato a basket, mio padre era allenatore. All'epoca era un anerotolo che gironzolava con la palla più grande della sua faccia, che tirava a canestro. A lunedì calcio, martedì basket, mercoledì calcio, giovedì basket, venerdì calcio e sabato-domenica le partite. A volte capitava che andava tutto sporco di fango l'allenamento di basket, quindi era bellissimo. Era il più piccolo di casa, era un mammone incredibile, quindi un sardo che va in continente è dura, è molto dura. Sono arrivato a Bari e venne a prendermi il team manager e mi portò nella mia casa. Era uno spogliatoio. Dentro il palasporto? Dentro il palasporto. Ho detto, ma... Ho fatto come la mia stanza? Io aprivo la porta e c'avevo il campo sotto, il mio allenamento. Quindi allenamento alle 5, capisci che alle 4.59 io potevo andare. Non riuscivo a fare magari il riposino di dopo pranzo perché c'era il mini basket. E i bambini con i balloni... Quindi non riuscivo a riposare ogni volta perché era veramente una tragedia. Avevo mille allenamenti, avevo la finale, è stato una settimana fuori. Per la maturità sono dovuto andare in nazionale. Vado già col borsone. Ho detto, ah, è nazionale... Certo, così ho detto, magari mi aiutano e hanno qualche punto in più. E dico, eh sì, devo andare, guarda, di nazionale dopo. Cioè, vorrei ricorromperli. Esattamente, perché io non sapevo praticamente niente, capito? Quindi tu sei un ragioniero. Sì, più o meno, sì, diciamo, tra virgolette. E poi decisi di andare a casa al P. Man mano lì, incominciai a giocare piano piano. La prima partita, mi sa che giocai e feci tipo 21 punti, una roba del genere. La prima partita? Sì, tipo 5 su 8 da 3, mi ricordo. Partendo dal presupposto che non dovevo mai giocare, ero sempre lì solo per allenarmi. E dici, ah cavolo, posso giocare anche io, cioè ci posso stare. E mi ricordo sempre questa idea scalia che ho nella sveglia. Never give up, farlo per la famiglia, mi ero scritto. Perché era una motivazione per alzarmi. Perché comunque ero lontano da casa, dovevo farlo non solo per me, ma anche per loro. Quando mi chiamo Ramaglia, Bologna, non potevo dire di no. È il derby, mamma mia. Specialmente la prima che abbiamo giocato è stata la partita migliore, più bella che abbiamo giocato la mia carriera, tra virgolette. C'erano 9.000 persone che stavano urlando e il parquet vibrava. Quindi sono entrato e mi sono messo a urlare anche io, perché c'avevo tantissimo adrenalino in corpo che... Ah, fatta così! E poi da lì non sentivi fatica, non sentivi niente, perché c'erano tifosi che ti davano energie, era una roba pazzesca. Poi vincemmo, tifosi che hanno fatto invasione, quindi è stata spaziale quella partita. Arrivò a febbraio, e niente, io non avevo la visione dell'allenatore di poti, avevo la visione del giocatore. E la prima persona che prese ero io. E da lì non so, mi è scattata qualcosa dentro, qualcosa mi ha fatto sentire importante. E mi ha preso sotto la sua ala, mi ha dato fiducia. Adesso lui dice che lui non ha fatto niente, che ho fatto tutto io, ma penso che se non ci fosse stato lui a darmi fiducia, non penso che avrei fatto quello che ho fatto, quindi un grazie e lo devo dire anche a lui. Giocare a casa mia è una roba che non si può trasmettere, non si può spiegare perché perderebbe valore. Quante tipe ti scrivono sui social? Ma adesso un po' di meno, devo essere sincero, perché sanno che sono fidanzato. Però quando ero singolo era una roba afficinante. Ti mandano foto con le tette di forza spesso, cose così. Ma poi tutte le robe che ho fatto quando ero singolo, cioè... Che poi tra le due metri sassere piccolina, uno rischia anche a fare... Sì, infatti rischio, ma io sai cosa facevo? Eh, la mia nuoro? No, 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 io sempre a casa, non mai uscite in giro con una persona. Così non mi facevo vedere e... Sì, sì. Avù, tira per una mano, tira per una mano! Finale preolimpico, Belgrado, 20.000 tifosi. Eh, ci ho pensato sì, ti darei una bugia se ti dici sì, no. Lì devi tirare fuori i marroni, eh, perché affronti una squadra che è favorita, che gioca in casa, che avrà 20.000 animali che ti urlano contro. Devi fare la partita perfetta, ovviamente. Ma già esserci comunque sarebbe una bella cosa. Secondo te perché piaci così tanto alla gente? Ma non lo so, perché penso di non vantarmi, di essere sempre disponibile. A volte ci sono ragazzini che mi chiedono consigli su Instagram per dirti e li rispondo tranquillamente senza problemi. Non lo so, sono me stesso, ecco. Arrivitos! A presto!